In Focus si colloca nell'ambito di Urbact, che è un programma europeo che si occupa dei mutamenti a livello urbano, al fine di cogliere quelle che sono le opportunità dei cambiamenti per migliorare le città sotto tutti i loro aspetti. In Focus è un progetto trasnazionale che ha l'obiettivo di analizzare l'aspetto economico, la crescita delle città in concerto con quelle che sono le strategie di sviluppo intelligente regionali. Nello specifico ci occuperemo di come l'imprenditorialità e le nuove imprese possono crescere in maniera sinergica nell'ambito delle aree metropolitane, partendo dal presupposto che le imprese non nascono in un contesto isolato, ma nascono in un sistema in cui i loro attori collaborano e possono migliorare e facilitare lo sviluppo di nuovi posti di lavoro e dell'economia.